Ciao, benvenuti, sono qui per presentarvi questa chitarra customizzata dai utali di Musicology e è stato preso spunto dai relitgamenti che fa il custom shop della Fender per rendere questa chitarra più vintage in questa maniera come potete vedere le meccaniche sono state invecchiate, tutto è stato invecchiato a regola d'arte e una caratteristica di questa chitarra è il manico in acero affiammato bella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti